In questo esperimento verifichiamo qualitativamente che nel vuoto oggetti diversi per massa, forma e dimensioni cadono insieme, cioè hanno la stessa accelerazione. Abbiamo bisogno di un tubo di vetro con un'apertura a uno dei due estremi, un rubinetto e una pavuoto, vari oggetti. Useremo qui un pezzo di metallo, uno di sughero e una piuma. Inseriamo gli oggetti nel tubo e colleghiamo il rubinetto. Prima di tutto verifichiamo come cadono gli oggetti se il rubinetto è aperto. Il pezzo di metallo tocca il fondo per primo, seguito nell'ordine dal pezzo di sughero e dalla piuma. Ora colleghiamo la pompa a vuoto al tubo di vetro e aspiriamo l'aria. Chiudiamo il rubinetto, stacchiamo la pompa e capovolgiamo il tubo. Adesso gli oggetti toccano il fondo del tubo di vetro quasi contemporaneamente. Il pezzo di metallo precede di pochissimo gli altri oggetti, che registrano tempi di caduta praticamente identici. Nel secondo caso, tutti gli oggetti sono sottoposti con buona approssimazione alla sola forza di gravità e cadono con la stessa accelerazione G. Nel primo caso, invece, all'interno del tubo c'è dell'aria. Il suo attrito influisce solo minimamente sul pezzo di metallo, mentre ha un effetto maggiore sugli altri oggetti. Grazie.